Grandissima partita dall'Inter stasera, grandissima partita, magari non spettacolare sempre, ma partita da grande squadra. Partirei con Brozovic, il sacerdote, come lo chiama Adani, in mezzo al campo, poi probabilmente io questa volta sono il profetta, visto che mi ero sognato il gol di Candreva, l'ho detto anche su Telegram prima dell'inizio della partita, alle 20.59, e infatti alla fine è segnato, ma poi soprattutto Esposito, questo 17enne che entra in Champions League e fa la mossa dell'angelo praticamente, perché avanti il petto con il pallone e poi indietro i difensori con i due alettoni, fantastico rigore conquistato da Sebastiano Esposito, veramente un gran rigore conquistato, poi purtroppo non l'abbiamo messo dentro, però Lautaro comunque ha fatto una grandissima partita pure lui, temevo che potessimo cadere un po' a livello fisico, infatti abbiamo fatto, diciamo, dal sessantesimo all'ottantesimo soffrendo, abbiamo fatto veramente 20 minuti di sofferenza a livello proprio fisico in mezzo al campo, purtroppo molti erano i giocatori infortunati, non avevamo grande panchina, è entrato Borca Valero all'ultimo, poteva forse entrare qualche minuto prima, secondo me, Brozovic ha rischiato molto nella seconda parte, diciamo, del secondo tempo, con qualche pallone perso, nonostante abbia fatto una grandissima partita, ovviamente, assolutamente grande partita anche da parte sua, però la stanchezza a volte si gioca degli scherzi e stavamo subendo un gol con un pallone che gli è scivolato via, probabilmente appunto per un po' di stanchezza, vedremo magari la prossima partita se ci sarà modo di tornare qualche giocatore in più, al momento hanno tenuto botta, nel senso che tanti giocatori hanno fatto tanti minuti con tante partite sul groppone, ma alla fine siamo riusciti a portare avanti e a casa, soprattutto ragazzi scusatemi, ma ho urlato abbastanza, siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali, perché contro il Borussia Dortmund veramente bisognava vincere, era obbligatorio, come ho scritto nel video prima della partita, era obbligatorio vincere e fare il risultato, anche perché poi lo scontro è diretto, sapete benissimo, i gironi, insomma i punti sono molto importanti, quindi molto bene la partita di stasera, molto molto bene per la prestazione, ma poi anche ovviamente per i tre punti, per il risultato, oltre al fatto che le vittorie in Champions portano dei soldini mica male in cassa al nostro club. Detto questo ragazzi, tornando un attimo alla partita, Sebastiano Esposito, a me è piaciuto molto, poi arriviamo anche magari agli altri e parliamo anche di qualcosa a livello tattico, ma Sebastiano Esposito vorrei veramente metterci una parola, perché ha fatto 30 minuti, non è che abbia fatto tutta la partita, però 30 minuti di grande impegno, ha mostrato delle grandi qualità, grande personalità, qualche volta ha fatto la scelta sbagliata, ci sta a 17 anni in Champions League contro il Borussia Dortmund, in un Inter che deve fare assolutamente risultato e che sta soffrendo perché non avevamo veramente fiato in quel momento della partita. Quindi ha fatto veramente una prestazione di spessore, ha rimpiazzato Lukaku e non si è minimamente vista la differenza, anzi direi io, anzi forse se la differenza si è vista, si è vista in positivo, ha impattato veramente con grande determinazione sulla partita e facendo vedere non solo voglia e impegno, perché quello ci può stare, è un ragazzo giovane, entra in campo e vuole spaccare il mondo, ma anche qualità, la qualità che a volte lì davanti ci è mancata togliendo Sanchez con le due partite che ha fatto e Lautaro che comunque la sta mostrando la qualità. Ecco, su Lautaro andando sul nostro Toro invece voglio spendere anche per lui qualche parola perché grande partita anche da parte sua, purtroppo l'errore sul rigore ragazzi, diciamo che i rigori li sbagliano solo quelli che li calciano, che se non calci i rigori non sbagli, quindi oggi è andata così, ma abbiamo portato a casa comunque la partita. Ma in generale la prestazione di Lautaro Martinez è ancora una volta mostruosa, completa oserei dire, più che altri aggettivi. Completa, totalizzante, perché mostra sacrificio, lotta sui palloni, pressa, viene anche indietro a prendersi il pallone, tira, sceglie la giocata giusta, capisce la giocata, la può anche cambiare diciamo in corsa, magari pensa a una cosa e ha la rapidità di pensione di cambiarla se vede che è meglio fare un altro tipo di azione. Quindi grande giocatore. E ricordiamoci soprattutto ragazzi che ha 22 anni, come anche Esposito che ne ha 17-18, sono molto giovani, quindi se qualche volta sbagliano la giocata, pensiamo anche al fatto che hanno ancora grandi margini di miglioramento, non sono ancora giocatori totalmente formati, chiaramente Lautaro ha un'altra esperienza rispetto a Esposito, però secondo me le qualità si vedono, si vedono assolutamente, come le vediamo, non so, in Sanchez, lo vedi che magari si può sbagliare la partita, però vedi che c'è la qualità, vedi che c'è il giocatore, vedi che c'è la stoffa sotto, Esposito lo vedi che c'è del materiale interessante, la stessa cosa vale per Lautaro secondo me, con tutto che comunque si possono aggiustare alcune cose. Poi ragazzi Brozovic è veramente, non spreco neanche parole perché sapete quanto mi piacciono i giocatori con intelligenza tattica, cosa che lui sta cominciando ad apprendere da due anni, prima era un adattato, adesso sempre di più si sta veramente incentrando su quel tipo di ruolo lì, ma attenzione perché stasera ho visto anche una cosa molto interessante, cioè uno scambio verticale tra il centrale di centrocampo, ovvero appunto Marcello Brozovic, e anche il centrale di difesa, De Vrij, grande partita anche di De Vrij stasera, non ha sbagliato praticamente nulla e ha tenuto duro anche con un leggero fastidio, insomma, quindi anche stoico e resistente De Vrij, ma ho visto spesso questo scambio di posizione, mi giro ragazzi, c'era un'inversione direi, no? A volte delle, un'inversione delle pedine, e questo serviva per praticamente tagliare fuori il pressing sul centrale, no? Il pressing ovviamente del Borussia sul tuo centrale che impostava, c'era questo scambio, questo duo, per cui se Brozovic veniva indietro, De Vrij poteva salire e impostare lui, e infatti poi il gol, il primo gol come è venuto, proprio con De Vrij che si sgancia, riesce ad andare a impostare e fa il lancio, no? Quindi molto interessante questa soluzione provata da Conte, Conte ragazzi è di una spanna superiore, è di un livello superiore rispetto ai tecnici degli ultimi anni, questo lo si vede, con questo non vuol dire che sia perfetto, qualche decisione magari, beh, insomma, si può sempre avere la propria opinione, ma ha proprio una preparazione, vede delle cose in più, e cioè si vede anche da questo piccolo dettaglio, eh? Dopodiché Barella, anche lui grande prestazione, oggi veramente mi ha sorpreso, perché pensavo che calasse, e invece sì, il calo magari c'è stato, ma ha comunque tirato, ha dato tutto, cioè lo vedi, sono giocatori che danno tutto sul campo, Lautaro è uno che dà tutto sul campo, Barella è uno che dà tutto sul campo, cioè fino all'ultimo minuto, anche se non hanno più energie, magari arrivano un po' tardi e tutto, però comunque si spremono fino a quello che vogliono i tifosi, no? Il sudore, la maglia, tutte queste cose qua, ecco, questi sono i giocatori, secondo me, che sono l'esempio di questo tipo di valore, no? Cosa che vorrei vedere anche, adesso qui non è una critica, ma vorrei vedere anche da Lukaku, per esempio, Lukaku, lo vedo, l'ha detto anche Adani, è in ritardo di condizione, ma non solo, c'è anche un problema proprio di integrazione con i compagni, e secondo me non ci crede abbastanza, cioè io vorrei vederlo un po' più incattivito, deve un po' imparare proprio da Lautaro, o da Barella, o addirittura anche da Esposito, quel rigore guadagnato da Esposito, c'è senso della posizione, c'è potenza, eppure è impossibile paragonare la potenza di Esposito con quella di Lukaku, ma non conta quello che tu hai dentro, conta quello che tu poi fai venire fuori, è una cosa che dico anche spesso in comunicazione, no? Non conta quello che pensiamo, ma quello che facciamo arrivare alla gente, e questa è una cosa importantissima, Esposito magari in senso assoluto a meno fisicità, a meno potenza di Lukaku, però caspita, la fa valere, come anche Lautaro, anche lui, magari è un anetto, però anche Barella la fa valere, fa valere la forza, la grinta, la mette sul campo, la traduce in azioni conquistate, in palloni conquistati, in falli presi, si fanno fare un sacco di falli questi giocatori qua, no? Barella, Lautaro, lo stesso Esposito, e sono con quelle azioni lì che ti porti a casa le partite, con la tigna, direbbe Spalletti, no? Con la grinta, con il lavoro, direbbe Conte, magari. Questo è importante, ed è quello che stiamo cominciando a vedere, io sono molto 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 contento di questo, è veramente, perché è un Inter finalmente diversa dagli altri anni, un Inter che magari ti può anche un po' sorprendere ogni tanto, no? Avevamo sempre paura gli altri anni, gli ultimi 20 minuti, oddio, non ce la facciamo, invece questa Inter c'è, è tosta e regge fino alla fine, mostrando tutto quello che hai imparato magari in settimana. Ragazzi, allora, io vorrei urlare, vorrei esultare, tutto quanto, in realtà penso di avere una linea di febbre. Purtroppo sono in questa caspita di casa, per cui c'è della gente intorno, eccetera, eccetera. Se arriviamo a 2000 like in sto caspita di video, il mio amico Juventino, che ce l'ho di fianco, la prossima partita, se vinciamo in Champions o in campionato, anche se è tardi, urlo finché non sbatte su per i muri. Spero che non vedo questo video. Comunque, dai ragazzi, no, è per dire che vorrei tanto essere bello pimpante, urlare e tutto, ma non posso, vabbè. È una prigionia. Ragazzi, allora, per adesso direi che sono contento e ho detto quello che dovevo dire su questa partita. Magari ci aggiorniamo domani o nei prossimi giorni per qualche altro spunto che mi viene fuori. Ovviamente, adesso più ci penso, più mi vengono fuori cose nuove, perché Skriniar, ne vogliamo parlare, anche lui è un po' ritrovato, secondo me ha ritrovato quello smalto per poter leggere prima l'azione. Adesso riparto, adesso riparto in quarta. Skriniar ha trovato quello smalto per cercare il tempismo, no, dello strappare il pallone all'avversario che lo punta. Quindi, come diceva anche Adani, questo pressing in avanti calcolato, ma allo stesso tempo con grande foga che gli permette di conquistare dei palloni e innescare dei contropiedi impressionanti. Poi ha questo piede pazzesco per cui riesce a fare dei cambi gioco di 70 metri. Asamo ha, anche lui, bene, per esempio, ha fatto dei controlli molto, molto, molto estetici, molto belli da vedere. Controlli di palloni che gli arrivano a 40-50 metri, lui lo stoppa e gli sta lì. Quella è la tecnica, ragazzi, è una bella cosa quando vedi questi controlli. Perché? Semplicemente perché non ti rubano un tempo di gioco. Prendi il pallone, ce l'hai lì e spesso l'avversario che ti viene a pressare, che parte da qualche metro più distante, tu lo puoi già dribblare, puoi già scegliere la giocata perché hai il tempo di alzare la testa. Se invece sbagli il controllo anche solo di mezzo metro, 30 centimetri, un metro, così, devi sempre rifare un altro controllo e poi alzi la testa, ma hai già l'avversario lì e quindi sei placcato e devi subito buttarlo indietro. Quindi bene anche Asamo ha per questo tipo di dettaglio, qualcosina o meno a livello difensivo, però è uscito anche Malconcio, probabilmente non stava benissimo fisicamente o ha preso qualche botta. Ragazzi, dai, vado avanti all'infinito, altrimenti vi saluto, vi do un abbraccio, forza Inter, lasciate un like, appunto, così facciamo vedere al mio amico Juventino di qua, al mio amico, in realtà è un vicino di caso, ma però lo facciamo vedere, che si può urlare anche se sono le 11 di sera e che caspita, per qualche volta che c'è una partita, finalmente siamo tornati in Champions, condividete il video, iscrivetevi al canale, per chi mi dice che non gli arrivano le notifiche, attivate la campanella, controllate questa cosa qui e ci salutiamo a prestissimo, forza Inter, avanti tutta!